Quattro giornate di sciopero delle attività commerciali nelle giornate di Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e primo maggio. A proclamarlo a pochi giorni dalle festività sono le organizzazioni sindacali regionali di categoria, Filcams CGL, Fisaskat CISL e Wiltux Will, che a due anni e mezzo dal decreto Salva Italia del governo Monti, che ha liberalizzato gli orari degli esercizi commerciali, continuano a ribadire la propria contrarietà all'apertura delle attività nelle festività religiose e civili. La liberalizzazione degli orari delle aperture domenicali non avrebbe portato, secondo i sindacati, all'aumento né dell'occupazione né dei consumi. Una tesi sostenuta anche dal Consiglio regionale della Toscana, che alcuni giorni fa ha presentato i risultati di un'indagine svolta dalle Commissioni per lo sviluppo economico e per l'emergenza occupazionale, sugli effetti dell'apertura non-stop degli esercizi commerciali. Secondo dati IRPET, raccolti appositamente per l'indagine, una maggiore precarizzazione del mercato del lavoro, un abbassamento del livello di professionalità richiesto e nessuna sollecitazione ai consumi.